Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi.Ad un passo dalla finale, Edoardo Tavassi riceve un attacco in piena regola dall'ex Vippone, potenziale vittoria a rischio Fratello dell'incontenibile Gwendalina, Edoardo Tavassi ha recentemente guadagnato lo status di quinto finalista del reality per Antonomasia La sua carriera nel mondo dello spettacolo è cominciata in sordina, all'ombra della celebre sorella, salvo poi guadagnare repentina ed ampia popolarità nel survival game L'Isola dei Famosi, in cui ha spiorato la vittoria nell'edizione targata 2022 Verace, spassoso e schietto, il concorrente Capitolino ha sgominato Nikita Pelizzon, Luca Onestini, Milena Meconi e Alberto De Paesi salte le voto, e parteciperà alla finale del GF Vip7, fissata per il 3 aprile 21 Edoardo Tavassi ha animato per molti mesi il loft di Cinecittà con giochi, scherzi e rap improvvisati, smorzando spesso le situazioni di tensione, e catalizzando il consenso da parte dei compagni spartani Tacciato altresì molteplici volte di strategia dall'opinionista Sonia Bruganelli, il finalista romano ha recentemente ricevuto un riscontro impietoso anche dal giovane Giorgio Pilan, scopriamo cos'è successo Edoardo Tavassi nel mirino di Giorgio Pilan.Nato in Romania, e successivamente approdato in Italia a fianco della madre, Giorgio Pilan ha militato nelle fila dei vipponi in qualità di TikToker di successo, il suo account sulla piattaforma cinese vanta infatti circa 2 milioni di follower Molto popolare anche su Instagram, in cui annovera quasi 600.000 fan, Giorgio Pilan ha vissuto la sua esperienza all'interno della casa in modo analitico e silenzioso, evitando di esporsi eccessivamente, e scivolando con fair play di puntata in puntata Invitato persino dalla madre ad affrontare il gioco con più grinta e leggerezza, l'influencer ha abbandonato anzitempo il gioco televisivo, forse penalizzato proprio dalla sua indole schiva Nelle ultime ore, però, Giorgio Pilan ha inaspettatamente esposto il proprio pensiero circa i personaggi più ambigui e falsi del GF Bip 7 In risposta alla sollecitazione di un follower, Giorgio Pilan ha replicato senza mezzi termini, per quanto riguarda la mia visione, Tavassi Edoardo Tavassi, finale a rischio? Se parecchi spettatori sposano la tesi di Sonia Bruganelli e Giorgio Pilan, una moltitudine di utenti nel web difende invece a spada tratta lo spumeggiante Edoardo Tavassi, esaltandone il carattere socievole ed aperto al confronto Del resto, il concorrente romano gode di un'elevata considerazione anche da parte della maggioranza dei compagni, che ne caldeggiavano l'ingresso in finale e, dopo l'annuncio ufficiale, hanno esultato al suo fianco Non resta che seguire l'attesissimo appuntamento conclusivo del format, l'esito della vittoria sarà, come sempre, affidato ai combattivi fandom, nonché al pubblico da casa Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me Arrivederci, al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti